buongiorno sono narita morelli consulente remox della polare chi mi conosce lo sa io adoro i giardini sul mare ed impazzisco per i tramonti lo so sono una romantica oggi vi porto a vedere una soluzione abitativa che racchiude tutto questo siete pronti e siete curiosi seguitemi eccoci a palese all'interno del borgo marina di fontanelle quello che mi piace di più di questa casa e la cura che i proprietari hanno avuto dei dettagli il gres porcellanato e la presenza del legno fanno da corvice a tre comode stanze da letto ed un primo bagno con doccia il plus di questa casa ve lo mostro tra poco seguitemi eccoci una grande zona living con prezioso angolo cucina ed un ulteriore bagno a servizio non credo che questo spazio abbia bisogno di una descrizione siamo in un appartamento ma qui sembra di essere in una villa ampie vetrate una vista mare impagabile e tante zone relax per accogliere i vostri amici a parte il vento vi sentite già in vacanza come me a questo punto dovete fare solamente una cosa dovete chiamarmi immediatamente anche perché cari ci sono ancora tantissime altre sorprese di cui vi parlerò vi aspetto